Buongiorno, sono Andrea Patrucco, sono un ricercatore della Penn State University negli Stati Uniti d'America e in questa clip parleremo degli strumenti tecnologici che possono supportare il processo d'acquisto. Come visto in una clip precedente, il processo di acquisto si struttura in tre fasi principali, la fase di strategic sourcing, la fase di sourcing e la fase di supply. Come tutti i processi, anche il processo d'acquisto da parte di un ente pubblico può essere supportato e reso più efficiente ed efficace dall'utilizzo di strumenti tecnologici. Prendono il nome di tecnologie di e-procurement tutte quelle tecnologie che sono progettate proprio per supportare le attività proprie del processo d'acquisto. Più precisamente, parlando noi di gestione del processo d'acquisto da parte di un ente pubblico, è più corretto rivolgersi a tale tecnologie chiamandone con il nome di e-public procurement. Nel pool delle tecnologie che possono supportare il processo d'acquisto eseguito da una pubblica amministrazione, spaziamo dai tool che possono essere utili per l'analisi del portafoglio e l'analisi di spesa dell'ente, a tool per la pianificazione e l'ottimizzazione dei fabbisogni d'acquisto, a strumenti per la gestione della procedura di gara, fino ad arrivare a tool più amministrativi che possono supportare le attività di fatturazione elettronica e gestire il ciclo operativo ordine fatturazione e pagamento. Ma focalizziamo ora l'attenzione sugli specifici strumenti che possono supportare ciascuna fase del processo di acquisto. Proprio della fase di strategic sourcing sono tutte quelle tecnologie che possono supportare attività quali analisi della spesa, gestione del portafoglio dei beni e servizi approvvigionati dall'ente e pianificazione e analisi dei fabbisogni da parte dei clienti interni. Tali strumenti, che si basano su tecnologie di business intelligence e data warehousing, consentono di costruire dei veri e propri cruscotti attraverso i quali chi gestisce il processo d'acquisto all'interno dell'ente può avere in costante monitoraggio in real time diversi aspetti legati al ciclo di approvvigionamento della pubblica istituzione. A schermo possiamo osservare tre differenti esempi di dashboard costruiti tramite l'utilizzo di tecnologie a supporto della fase di strategic sourcing. Come si può osservare, questi cruscotti consentono un vero e proprio monitoraggio della spesa da parte dell'ente, sia in termini di categorie di acquisto che in termini di gestione dei fornitori. L'utilizzo di strumenti di questo tipo consente quindi di migliorare la conoscenza sulla composizione della spesa dell'ente e sulle caratteristiche dei propri fornitori. In questo modo è sicuramente possibile eseguire in maniera più efficace ma anche più efficiente il processo di pianificazione dei fabbisogni futuri. Tuttavia, come già avuto modo di evidenziare in precedenza, un efficace utilizzo di questi strumenti ha come prerequisito l'esistenza di dati dettagliati e strutturati, di cui spesso le pubbliche amministrazioni sono carenti. Per tutti questi motivi, l'utilizzo di questi strumenti è molto limitato, così come anche la loro diffusione se prendiamo come riferimento il campione delle pubbliche amministrazioni italiane. Per la fase di sourcing, invece, abbiamo tutti quegli strumenti che consentono di gestire elettronicamente una procedura di gara. Supportano quindi tutte quelle attività di progettazione e pubblicazione dei documenti, valutazione delle offerte ricevute e aggiudicazione del contratto al fornitore selezionato. L'introduzione e l'utilizzo di queste piattaforme è in genere molto semplice ed intuitivo e consente all'ente di portarsi a casa una serie di funzionalità avanzate. Possiamo vederne alcune tramite gli esempi riportati a schermo. Una prima funzionalità offerta è quella di configurazione e pubblicazione di un bando di gara. Nell'esempio a schermo si può osservare come una ASL stia per pubblicare elettronicamente un bando di gara per lavori di manutenzione alle strutture interne al presidio ospedaliero careggi. Una prima funzionalità offerta è quella che permette la configurazione e la pubblicazione elettronica di un bando di gara. Una seconda funzionalità molto importante è quella che permette ai fornitori di caricare direttamente a sistema le loro proposte di offerta secondo forma standardizzati. Nel caso in esame si può osservare come il fornitore possa vedere due schermate. Una per l'inserimento dei documenti generali relativi alla sua organizzazione ed una per l'inserimento dei dati relativi all'offerta tecnica ed economica. Un terzo tipo di funzionalità è quella che consente di verificare automaticamente e online la correttezza dei documenti caricati dai fornitori. Nell'esempio a schermo l'azienda Mario Rossi ha sottomesso correttamente tutti i documenti necessari alla partecipazione del bando di gara in oggetto. Indipendentemente dalla completezza o meno dei documenti sottomessi, come si può osservare, il sistema lascia comunque all'ente l'opzione di contattare il fornitore online al fine di richiedere opportuni chiarimenti se uno o più dei documenti sottomessi non fossero conformi a quello che l'ente si aspettava. Infine, un'ultima e fondamentale funzionalità offerta da strumenti di questo tipo è la valutazione automatica delle offerte ricevute e quindi la selezione dell'aggiudicatario del contratto. Facendo riferimento ancora una volta all'esempio a schermo, si può osservare come sia possibile dapprima valutare la singola offerta ricevuta rispetto alle dimensioni esplicitate dal bando di gara per poi andare ad inserirla nella graduatoria complessiva. Nel caso in esame si può osservare come la prima azienda sia anche l'aggiudicataria del bando di gara oggetto della procedura. Nella fase di sourcing esistono anche moduli che consentono di gestire procedure elettroniche di aste a ribasso. Come osservabile dall'esempio mostrato a schermo, i fornitori, in un intervallo di tempo predefinito, sono messi in competizione tra di loro e costretti a rilanciare sulla loro prima offerta, permettendo così a lente di ottenere ulteriori risparmi rispetto alle prime proposte. Questi strumenti sono tuttavia poco diffusi ed utilizzati, in quanto la loro implementazione è molto limitata dalle direttive nazionali e sovranazionali. Infine, l'ultima fase è quella di supply. In questa fase troviamo tutti quegli strumenti che possono supportare le attività relative al ciclo ordine, fatturazione e pagamento. Tra i vari strumenti, quelli assolutamente più rilevanti sono senza dubbio i cataloghi elettronici. Attraverso i cataloghi elettronici, l'ente può andare a caricare tutte le categorie d'acquisto per le quali esiste un contratto attivo o una convenzione in essere. Nel rispetto delle autorizzazioni di spesa, l'utente finale può quindi andare ad emettere autonomamente un ordine per andare a soddisfare il fabbisogno di acquisto di un bene o di un servizio. Il fabbisogno viene così soddisfatto in maniera efficiente ed in tempi più contenuti e soprattutto nel rispetto di condizioni già stabilite. Nell'esempio a schermo è possibile osservare il funzionamento di un catalogo elettronico. In particolar modo è possibile vedere come un utente interno possa autonomamente emettere un ordine per scatole di imballaggio all'interno del contratto attivo con i fornitori per questa categoria d'acquisto e precedentemente stipulati dall'ente. Tra gli strumenti di e-procurement, quelli a supporto del ciclo ordine fatturazione e pagamento, quindi della fase di supply, sono certamente i più diffusi. Questo perché, come avremo modo di vedere in clip successive, lo Stato italiano mette a disposizione degli enti pubblici una serie di strumenti già definiti a livello nazionale e regionale. Tra questi strumenti non è possibile non citare il mercato elettronico della pubblica amministrazione, detto anche MEPA. Il MEPA è un mercato digitale all'interno del quale amministrazioni pubbliche registrate ed imprese registrate possono fare incontrare la loro domanda e la loro offerta tramite l'esecuzione di procedure negoziali trasparenti, veloci ed efficaci. Tramite il MEPA è possibile effettuare acquisti o tramite ordini diretti da catalogo o tramite richieste di offerta. La cosa fondamentale è che queste categorie di acquisto nel loro importo di spesa non superino la soglia comunitaria. Le categorie di acquisto che possono essere trovate e quindi acquistate tramite il MEPA sono le più disparate. Si parte dagli arredi e complementi di arredo fino ad arrivare a beni e servizi sanitari, passando attraverso la cancelleria, i servizi di manutenzione, i servizi professionali e i servizi logistici. Ma analizziamo qualche dato relativo all'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Secondo dati CONSIP del 2016, le imprese che operano con le pubbliche amministrazioni attraverso il MEPA sono più di 70.000 in grado di fornire un numero di articoli superiore a 7 milioni. Il transato sul MEPA nel 2016 è stato di più di 650.000 transazioni d'acquisto per un volume d'acquisto in termini monetari di più di 2 miliardi di euro. Ma perché le pubbliche amministrazioni dovrebbero spingere per l'utilizzo di strumenti di e-procurement? Gli strumenti di e-procurement possono portare dei benefici sia a livelli di processo di acquisto che a livello di prezzo strappato per l'acquisto stesso del bene o del servizio di cui l'ente ha necessità. Sono quindi in grado di far combaciare entrambe le esigenze di efficienza ed efficacia nella gestione del processo di public procurement. Non solo, i benefici non sono solo lato amministrazioni, ma sono anche lato imprese che con le amministrazioni pubbliche vogliono operare. Volendo quindi riassumere quelli che sono i benefici per entrambi le parti, possiamo elencare i seguenti fattori. Lato pubbliche amministrazioni, si ha senza dubbio la possibilità di ridurre i costi e i tempi del processo d'acquisto, eseguire più facilmente il confronto tra i prodotti presenti sul mercato, garantire trasparenza informativa, tracciare meglio gli acquisti ed avere un maggiore controllo della spesa interna e infine andare a negoziare con i fornitori migliori condizioni in termini di tempi, prezzi e qualità. Lato imprese, si ha sicuramente la possibilità di ridurre i costi e i tempi del processo di vendita, dare maggiore visibilità ai propri prodotti, operare in funzione di processi trasparenti, tracciare meglio le transazioni di vendita e penetrare più facilmente il mercato pubblico. Ma focalizziamo per un attimo l'attenzione ai benefici di processo garantito dall'utilizzo di strumenti a supporto del processo di acquisto. I benefici, in tal senso, sono sicuramente garantiti anzitutto da quegli strumenti che supportano la fase di supply. Secondo uno studio condotto dall'osservatorio e government del Politecnico di Milano, i benefici per gli enti che non svolgono più di 15 procedure negoziali l'anno, possono variare dal 12% al 31% nella riduzione del tempo e della durata del processo, e dall'11% al 30% delle risorse impiegate a seconda dell'intensità di utilizzo di tali tecnologie. Tali benefici si possono amplificare fino al 40% nel caso in cui l'ente sia di maggiore dimensioni, un numero di procedure negoziali eseguite durante l'anno maggiore di 70% e si caratterizzi per un utilizzo intensivo della tecnologia.